Regà, visto che questo video esce alle 8, è la festa della donna oggi, fate gli auguri, non fate i bastardi. Signore e signori, benvenuti alla patch 13.5. Questa è l'analisi direttamente, non c'è stata la patch preview perché, beh, Riot non ha messo fuori il classico documento con tutti i dati specifici e quindi non volevo andare a ingannare nessuno, per quanto ci sono liste di datamine, cioè di dati trovati sul server PBE che elencavano alcuni cambiamenti. Quindi molti di questi non erano precisi e molti di questi poi sono stati cambiati anche più volte dalle dichiarazioni di Riot su Twitter e quindi ho preferito andare più per il cauto e dire, ok, aspettiamo la patch completa, almeno diamo numeri precisi e non deludiamo nessuno. Dispiace se non è arrivato, però era la mia scelta in merito. Ricordiamo, queste skin usciranno il 9 di marzo, sono tutte le Broken Covenant con la skin di Riven che è la skin leggendaria. Non c'è un pass per questa serie di skin, il pass arriverà con la prossima patch da 13.6 che esce il 22 di marzo. Questo quindi dovrebbe farvi capire che questa tipologia di skin che ha la prestigio di Miss Fortune è quella in cui dovete spendere tanti tanti soldini per averla. Se no non potete ottenerla, punto e a capo. Andiamo, let's go. 13.5, ha una montagna di cambiamenti questa patch, quindi dobbiamo anche andare abbastanza ceri perché se no ci stiamo tutta la sera. Partiamo da Yumi. Yumi ha ricevuto un gigantesco rework che non ha cambiato totalmente la natura del campione, cioè rimane un campione estremamente semplice, ma hanno semplificato il campione, hanno tolto sustain, hanno messo più scudi piuttosto che cure e hanno cercato il modo di farla sinergizzare meglio con gli adcarrie. Ho fatto un intero video dedicato, ma la parte più grossa su cosa è questa. Se tu rimani legato ad un alleato, tu ottieni cariche di migliore amico. Quando sei sul tuo migliore amico, le tue spell sono potenziate e quando non sei legato al tuo migliore amico, le tue spell sono un pochino più deboli, danno meno effetti a confronto con quando sei legato al tuo migliore amico. Ci sono una serie di potenziamenti proprio mirati alla di Kerry, in modo da renderlo più forte nel momento in cui sei legato, e questo dovrebbe rendere il gioco meno frustrante, perché? Perché una delle frustrazioni più grosse era contro Yumi, che cacchio potevi fare nel momento in cui si legava a un campione tipo Ecarim, giusto per dire un esempio, o un Rast o cose del genere. Non avrà più tutto quell'enorme sustain Yumi, anzi, quindi, meno male, grazie, grazie davvero Riot, perché era disperatamente necessario questa modifica. Atrox, è da un po' che non lo vediamo perché, beh, dopo un intero anno, non è forse un po' esagerato, ma dopo gli ultimi mesi del 2022, da settembre fino a dicembre, in cui l'abbiamo visto così prepotente, con i vari cambiamenti anche al sustain, agli oggetti in precision e quant'altro, e la sua dominanza mondiale, l'aveva nerfato, lo vanno a ribaffare, ma non lo vanno a ribaffare su cose che lo impattano direttamente. Cioè, sono cose che la maggior parte dei player non si accorgerà, ma torneranno estremamente utili per quei giocatori che sono molto esperti di Atrox. Cooldown della W, che va a diminuire per mezzo secondo, un secondo, un secondo e mezzo, due secondi dal secondo ranking poi, quindi da 28,5, 17, 15,5, 14, a 28, 16, 14, 12, molto buono già questo buff, e lo slow sale per livello da 25% fino a 35% di due punti e mezzo per il rank up della W. Tanta roba, ottima modifica, apprezzabilissima. Anche quella della Suprema, che va a potenziare l'attacco fisico bonus che ottieni, da 20-30-40% del tuo AD a 20-32,5-45% del tuo AD, almeno quando vai a attivare la Suprema in late game sei prepotentemente potenziato, ed è giusto che sia così. È un aiutino abbastanza piccolo per permettere a Atrox comunque di andare a sfruttare quelli che sono stati anche i cambiamenti degli oggetti a Fighter senza romperlo del tutto. Lo aiuterà tanto questo, almeno un buon punto percentuale di WeRate dovrebbe darglielo, se non anche di più, soprattutto a basso elo. Però è più legato ai giocatori che sono esperti di Atrox. Per la gioia di letteralmente tutti, Ash viene nerfata. Ash viene nerfata non come AD Carry, ma viene nerfata come supporto. Cosa vanno a fare? Le vanno a dare una manina come AD Carry, riducendo il costo di mana della Q da 50-30 e aumentando la durata da 4 secondi a 6 secondi? La W adesso ha un danno base abbassato di 10, e meno male perché era la spell spammata per eccellenza da supporto, maxavi quella, e poi continuavi a castare Supreme, era uno dei problemi più grossi. Infatti la Supreme adesso ha 100 secondi cooldown a rank 1, 80 secondi cooldown a rank 2, 60 secondi cooldown a rank 3. Considerate che in media quando giochi supporto come Ash, al massimo che arrivi è livello 13-14, se proprio il game dura veramente tanto. Quindi adesso al secondo rank della tua Suprema avrai il cooldown che avevi a rank 1 della Suprema. Questo dovrebbe comunque permettere a Ash di Carry di funzionare, ma non permette all'Ash support da lucidity, cooldown reduction, costante ability, haste, mille supreme sparate per game che stiamo vedendo ultimamente. Cosa che si vedeva anche in competitivo, e questo va quindi a nerfare pesantemente soprattutto quella build in competitivo che era diventata un po' troppo dominante visto che dovevi bannare Ash se vuoi giocare una bolla indivertente. Andiamo avanti! Anche Aurelion Sol dopo quello che è stato il suo lancio molto forte, l'avevano già nerfato, decide di nerfarlo ancora. Su statistiche di base su per quanto riguarda la vita e l'armatura, sono 5 HP per livello e punto 3 punti di armatura per livello, che sono 5 di armor in meno e un totale di 85 HP in meno. Su Aurelion Sol non è la cosa più importante del mondo, è molto più importante invece per quanto riguarda lo scaling sul potere magico della Q che passa da 40% a 35%, questo è il proc burst della sua Q. Almeno vai un minimo a indebolirlo. Il problema è questo, è che Aurelion Sol è un campione che hanno concepito molto bene, cioè il design è fatto perfetto. È un campione che se riesce ad arrivare in late game, porco Giuda se è forte, ma non c'è un modo per andarlo a punire in maniera efficace. Cioè, la sua fase di corsia, con il farm dalla distanza, con il campo gravitazionale, il buco nero e la sua Q, gli permettono di stare abbastanza sicuro e ottenere le sue stack. Cioè, il tuo focus come Aurelion Sol è prendere stack. Una volta che hai preso abbastanza stack sei veramente forte, a prescindere. Potrebbero provare a nerfare quello che magari è il danno della sua Q sulle stack di polvere stellare. Ci sono tante altre cose che magari potrebbero andare a toccare, ma non è così immediato e semplice. Ecco, mettiamola semplicemente così. Secondo me uno dei problemi più grossi è proprio il sì, ci sta che possa scalare verso che è un super late game champion, ma con la durata dei game medi, soprattutto in solo Q, non è proprio il massimo, soprattutto per il medio-basso elo. Non sto dicendo che è sbruccatissimo, è fuori testa. È molto forte, perché comunque ci guada 3,7% di Wii Raid in media, e questo si parla fino anche a Platte e Diamond, quindi neanche dire la gente più scarsa del mondo. Ovvio, se si parla di Master e Grandmaster scende i Wii Raid perché sanno punirlo meglio, ma è comunque molto alto. E quindi magari un pelino, pelino più aggressivi ci sarebbero stati. Azzir riceve, dopo la scorsa patch che aveva ricevuto, dei giganteschi buff agli scaling su potri magico senza nessun motivo, hanno deciso di, non dico reworkarlo, ma gli hanno cambiato letteralmente tutto, e quindi dobbiamo andare un po' con calma perché definirlo un rework forse è un po' troppo, però capirei perché qualcuno potrebbe interpretarlo in questo modo. Allora, riducono gli HP di base, aumentano l'armor per livello, riducono il mana di base, aumentano il mana per livello, aumentano l'attacco fisico per livello, aumentano lo scaling dell'attacco fisico a 0,625, a 0,694, aumentano l'attacco speed per livello da 3% a 5%. Per quale motivo tutte queste modifiche? Posso riassumerle tutte quante dicendo cerco di renderlo più fragile in early game, cerco di dargli un maggiore scaling nel mid to late game, così che diventa più forte nella fase avanzata di partita dove dovrebbe essere forte, Azir non dovrebbe essere forte in early, cosa che attualmente stava succedendo, che è veramente, veramente stupidamente ridicolo. Passiamo alla passiva, che vede la durata scendere a 60 secondi a 30 secondi. Il danno aumentato di base escala meglio col potere magico, per quale motivo? Perché hanno tolto del danno bonus contro i campioni, che prima era a 37,5%, non c'è più. Adesso il disco solare di Azir applica gli effetti delle spell come una single target spell, e io sono tipo, ok, wow, non mi viene in mente un singolo effetto che possa fare la differenza a questo, ma vabbè. La vita del disco solare passa a 3000 HP. Quando riguarda l'armatura e resistenza magica, risulta quasi sempre un nerf, perché soprattutto quando poi consideri anche il debuff del disco solare di quando ti allontani, dici, ok, quando è lontano Azir, perde 100 armor in Magic Redis, non ci arriva nemmeno più a 100 armor in Magic Redis. Prima potevi arrivarci in 40 minuti di partita per l'armatura, adesso no. Oltretutto il cooldown abbassato da 180-90 secondi, è tipo... Un po' strano, è un po' tanto strano questa modifica della passiva. Non comprendo perché abbiano deciso di modificare la passiva in questo modo. Oltre a dire, ok, adesso fa più danni sui minion, fine. Cioè questa è l'unica importante differenza per il 99% delle persone. La Q adesso costi mana molto più alto, la 5-5 passa da 65-30-75, il danno base è stato abbassato di 10, lo scaling su potri magico aumentato di 5%, e questo vuol dire che è un buff a 200 AP o più, il che vuol dire che, di nuovo, spingi potere verso il mid-to-lay game. La W adesso non ottieni più attack speed bonus, ma i 50-70-80-90 danni magici addizionali sul soldato, e il danno magico totale passa da 50 a 200, perché dipende dal rank del soldato, e quindi, ok, stesso scaling su poteri magico, e non hai più attack speed bonus quando hai i tre soldati a terra. Cosa dovrebbe essere Azzira adesso? Cioè non è un mago da DPS, hai un migliore scaling con l'attack speed sulle statistiche di base modificate, ma questa era una grossa modifica, questa è una grossa modifica, è un grosso nerf, questo Azzira tutto tondo. Anche se uno guarda e dice, ah, ok, hai ridotto anche lo scaling su poteri magico della E, e quindi anche il danno viene ridotto lì. Hai ridotto tutto l'early e ha indebolito molto l'identità di Azzira tutto tondo. Non ha nada a puntare a, ah, voglio nerfare DPS, ah, voglio nerfare il Bars, ah, voglio nerfare questo. Cioè l'hai nerfato sotto ogni punto di vista nei primi 20 minuti, che è giusto, però lo sostanzialmente è... Nerfare una cosa, segargli le gambe a un'altra? Sono preoccupato per il povero Azzira. Non sono preoccupato per Kaling, fotti di Kaling, uno di armatura in meno e due di attacco fisico in meno, che sembra poco, ma ricordatevi come funziona l'headshot per lei, e ricordatevi che poter aggredire più facilmente un campione perché ha meno armatura, vuol dire che non dovrebbe snuvolare altrettanto bene. Fizz, caro caro Fizz, come stai? Bellissimo. Riceve un buff sulla rigenerazione in mana quando la stitta è di W? Non male, questo è molto buono, considerato che prima non era il 100%, adesso è il 100% del costo in mana, molto buono, tutto sommato, molto molto buono, il danno base della A viene aumentato di 10 danni flat e il costo in mana viene diminuito di 15 di mana flat, quindi tantissima roba per il suo way clear, tantissima roba per il suo controllo sull'indate e sui costi in mana, quindi clean job riot, non che DC, oh mio Dio era messo malissimo, però un aiutino se lo meritava tutto quanto, clean job riot. Gangplank, caro Gangplank, fotti di... No, sinceramente, da quando la gente si è accorta che la build con la Navori come secondo item è sbroccata, come tutti quanti avevamo riconosciuto fino a subito, è tipo riot, no, no, ma andrà tutto bene. Goddamn. Questo champion è veramente forte nel momento in cui impari un minimo a utilizzarlo, ma veramente tanto forte. vanno a ridurre il danno base, il danno puro della sua passiva, grazie, finalmente, alleluia, è una riduzione, si parla di farla da 5 ai 60 danni in meno su ogni proc di passiva, molto buono, ma comunque scala molto bene con il critico, quindi, pace. adesso tutti i giocatori possono vedere quanti barilli ha gameplay, questo è un'ottima modifica, grazie Riot, figa già questo aiuterà tantissimo, perché puoi decidere quando te lo dare sapendo quanti barilli ha, cioè, se no dovevi contarli e tenerli in testa, che era scomodissimo, perché comunque il cooldown cambia, con l'abilità haste, era un casino, grazie per averlo messo disponibile, molto molto gentile. E il cooldown mi ha aumentato 18 secondi a tutti i rank, perché prima era 18, 17, 16, 15, 14, ma quando hai le fottute navori, che cosa succede? Questi cooldown si abbassano, e quindi i barilli continuano a sponare, e quindi di colpo ti rendi conto, perché io questo gameplay può continuare a curarsi a ripetizione, e tirare barilli, e tirare parle, e io non posso fare una sega? Ecco. Grazie Riot, grazie, vivamente grazie. Un buff a Jinx, è qualcosa che non mi aspettavo sinceramente, però contento di vederlo, perché Jinx è uno di quegli edi carry, che è proprio sul bordino di essere forte, ma non abbastanza forte per essere giocabile, l'attack speed per livello sale da 1% a 1,36%, lo zap ha un costo di mana ridotto di 10 a ogni singolo rank, lo slowvin è aumentato del 10% a ogni singolo rank, e il super mega razzo della morte ha di nuovo la possibilità di lastittare i mostri in giungla, perché, tipo il baron, il drago, eccetera, eccetera, perché hanno riaumentato il cap da 800 a 1.200. Riot non impara mai la le... è la terza volta che fanno sto change, e dicono, ma riproviamoci, vediamo che cosa succederà, succedono cose orribili, ok, lo togliamo, scusateci. Ah, Riot. Kennen. Kennen che riceve dei buff è molto raro. Cooldown ridotto della sua Q, di un secondo a livello 1, tre quarti di secondo, due quarti di secondo, un quarto di secondo, a livello 2, 3 e 4, al quinto rank è rimasto uguale, identico, lo scale di suo potere magico è aumentato del 10%, da 75-85% di AP, non solo, hanno aumentato di 5-10-15-20 danni base alla sua Q, quindi già questo è tipo fucking clean come roba. Hanno messo un range indicator visibile a Kennen quando un campione è marchiato, grazie, perché c'è la Twitch, perché non può averlo Kennen, grazie Riot, e il danno sui minion della sua E passa da 50% a 65%, per aiutare un minimo sui clear, quindi molto buono, molto pericoloso questo, sinceramente, è tipo, questo riporta Kennen in ah, forse dovremmo giocarlo un po' più spesso, magari lo provo in live, domani lo provo in, no, in verità è ciao, domani, oggi lo provo in live, cioè se state guardando questo video probabilmente lo sto provando in live. Le Blanc, Le Blanc riceve un aiutino al suo way clear che è uno dei suoi punti più deboli, e posso capire che sembrerà strano, perché dici, cazzo, ma allora perché stai togliendo un punto debole alle Blanc? dire che Le Blanc è debole sui clear è un eufemismo, Le Blanc è non ironicamente il peggior campione su cui farmare nel gioco, penso che nemmeno la Nivea e il Carthus vecchi con la vecchia animazione di autoattacco erano così tanto orribili a livello di come si deve farmare, grazie che le date una manina, perché come assassina P è divertente a vedere, ma puoi vederla giocare ai pro player, non la vedi mai il solo Q, perché basta prendere un campione che puscia e non ci interagisci mai, e hai vinto, perché se non riesce a ingredirti e non riesce a fare qualcosa in fretta, Le Blanc diventa un ceppo di legno inutile. Cosa succede? Cosa hanno modificato per permetterle di way clearare? La sua Q. Adesso la sua Q nel momento in cui va a lastittare, sia con la prima porzione di danno che con la seconda, non fa differenza di quando uccidi con un minion, cosa succede? Ottieni indietro il 100% del costo di mana e il 30% del cooldown della spell, perché in un meno pratico la Q di Le Blanc ha 6 secondi di cooldown, togliere 2 secondi non è esattamente una roba da poco. Sembrerà banale, per un campione di Le Blanc è tipo Porco Giuda, posso lastittare con la mia Q finalmente? Grazie Riot. Perché prima cosa dovevi fare? Ok, devo decidere. Userò la mia W sul campione oppure sulla wave? Oggi... Spoiler, maggio praticamente se lo utilizzavi sul campione finivi outpushato e quindi eri tipo... Bello! Sono sotto torra a lastittare con gli autoattacchi, grazie Riot. Cosa succede? Hanno aumentato il costo contro i... Il costo, il danno contro i minion di 10-146 danni, indipendentemente dal livello del campione, dal livello 1, livello 18. Quindi, non solo è più facile lastittare di Q, ma è un costo in mana resettato e il cooldown che ti torna indietro, quindi porca puttana tantissima roba. E lo stesso discorso si applica anche alla R. Se tu fai il mimic della R, cioè tu ricasti, fai Q-R, quindi casti una sfera su uno e poi su un altro, di colpo, magicamente, il minion scompare, 1 e 2. Ottieni dietro il cooldown della tua Q e della tua R. Cosa, nota importante. Quindi, mmm, mmm. Non male. Mi piace questa modifica. Almeno la aiutano, non la rendono rotta, ma la aiutano un minimo a funzionare. Il Panteone. Panteone sta soffrendo un po' tutto l'universo che gli cade addosso. È un campione che deve snobolare tanto in early game e se non lo fa, non fa un cazzo. Ma, nel senso letterale, proprio non fa una Sega in game. Deve snobolare molto velocemente. Quando snobolla è un pericolo assoluto e tipo ti viene il mal di testa e dici, per favore, tirami fuori da questo game. Il modo in cui lo fanno è strano, perché dici, ok, lo vogliono aiutare per la top lane e riducono il suo health regen di base. Gli mettono più attack speed che è comodo, assolutamente. Abbassano il cooldown della sua Q, che è molto buono a livello di interazione e a livello di fase di corsia. È molto buono di durare il cooldown della sua Q. Anche costa in mano di dotto da 30 a 25. Il fatto che la Q tappata, cioè che se tu premi di colpo la Q e la rilasci subito, va così, il colpo tipo stilettata, di sicuro si chiama affondo. Il mio cervello l'ha elaborato un attimo e ha detto se dovessi correggere un tizio così, come lo correggerai? È un affondo l'apo. Perfetto. È un affondo in 0.2 secondi invece che 0.25 secondi, che sembra poco, ma in un ambiente a basso ping non è per niente male. Per compensare questo buff sulla Q hanno deciso però di fare un pochino la E per avere la precisione sono mezzo secondo, un secondo, un secondo e mezzo, due secondi in più di cooldown sulla E dal secondo al quinto rank, giusto per chiudere la quadra e tutto. Kiana, nonostante non sia con un we rate così brusto, perché ha il 50% di we rate, giusto per renderci chiara qual è la situazione di Kiana, campione meccanicamente complesso che ci sta, che si ha, mi sa così, e aumentano i danni in base i 5, 10, 15, 20 sulla sua Q, io sono un po' un po' cosino, sono un grande fan di questa cosa, però, ok, avete scelto di fare questa cosa, va bene Riot, e il cooldown della sua E viene ridotto di un secondo a ogni singolo rank. Io non sono un grande fan di queste modifiche per un motivo, perché un Assassin deve essere un campione difficile di base, cioè, deve essere un campione nel cui we rate è dettato principalmente da quegli stronzi che si imparano perfettamente le combo, il positioning e il macro del campione per giocare questo campione. quando tu riduci la difficoltà di un campione, la difficoltà iniziale di un campione per renderlo più accessibile, quando è fatto apposta per essere un campione non molto accessibile, stai mettendo, stai andando contro quello che hai deciso di presentare, e questa è la cosa che mi lascia un po' così. posso capire l'idea di buffarla perché è messa male, ma non è neanche messa così male, non che dici ah cazzo fa schifissimo, 50% di we rate è invidiabile, è lì, tranquillo, sobria, prima che qualcuno mi strilli per i we rate perché ogni volta sento sto guardando dall'Holalytics, smettete di guardare da op.gg perché vi giuro vedere dei dati fatti a cazzo di cane come li fa op.gg è veramente imbarazzante, perché? perché ne prendono meno di l'Holalytics e lo stesso discorso si applica anche a Mobafire, Mobalytics come cazzo si chiama l'altro, ce ne sono 2000 di sì, ci sono troppi sì, usate l'Holalytics che utilizza dati a modo e fatti bene e non a cazzo di cane, grazie, perché sapete fanno ogni tre ore il controllo dei dati e li aggiorano costantemente piuttosto che aspettare giorni tra una giorno e l'altra, sto guardando te u.gg porco Giuda quindi sì, Kiana è buffata e io non ne sono contento non perché non se lo meriti ma perché secondo me non è necessario tutto qua Rammus ciao Rammus, come stai? male ovviamente perché riceve un nerf sul suo attacco fisico per livello non una perdita astronomica però ci sta il danno della sua cubina è ridotto di 5, 10, 15, 20 danni magici lo screen sul potere magico invece rimane invariato è proprio il classico ritocchino proprio a dire ha un po' troppo di we rate gli abbassiamo giusto giusto il volume di pochissimo clean, perfetto rumble 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 ha sempre avuto un problema il sustain nella maggior parte dei casi funziona sempre meglio mid lane e non top lane perché in top lane se fai il benché minimo errore meccanico con rumble sei un cadavro cioè sei morto 100% ok che il buff che stanno facendo non è neanche una roba da poco perché dici adesso la E nel momento in cui colpisci la prima volta riduce la resistenza magica da 12 fino a 20% quindi questo buff lo senti tra il livello 8 e il livello 13 e quando colpisci il secondo arpione ti fa 20, 24, 28, 32, 36 40% non è un brutto buff assolutamente oltre al fatto che mi preoccupa che sia giusto prima dell'MSI ma non è un brutto buff però non 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 è questo che lo riporta a funzionare in top lane perché non è che dici ah in top lane non funziona perché ti prendono in faccia una negatron e hai finito di giocare no perché comunque il tuo lavoro lo puoi fare ugualmente anche se ti rushano una negatron e un clock in faccia di solito prendono in mercury perché sono molto meglio contro l'amor ma dettagli sei lì che guardi e dici hai davvero bisogno di questo per funzionare cioè non avresti preferenze piuttosto a ottenere qualcos'altro tipo del sustain no del sustain non puoi darlo perché sennò sempre sbroccato veramente Rumble allo stesso tempo mi chiedo cosa è questo il problema Rumble è difficile a bilanciare perché è un campione del cazzo Rumble ha un kit molto vecchio e quindi bilanciarlo è molto difficile senza romperlo del tutto quindi sono tipo molto cauti fanno questi buff e poi pensano ok possiamo farlo effettivamente spesso dicono sì e poi si rendono conto che la risposta era no è per questo che anche io sono un po' scettico non perché non lo voglio non perché non se lo meriti ma perché è tipo quanti mal di testa causerà questa cosa spoiler un po' Samira dopo l'ultima modifica che ha ricevuto che l'aveva ok giustamente nerfata perché era veramente forte aveva era un po' esagerato adesso ottieni 2,2,5 3,3,5% per stack di movement speed dalla passiva comprensibilissimo adesso è il maxed out la versione potenziata al massimo è da 12 fino a 21% quindi un pochino più forte in early ma più debole in late giusto per ribilanciarla dopo gli ultimi nerfini che aveva subito che erano militati ma erano un pelino troppo per i sui early game Trindamer riceve 3 HP per livello e .3 AD per livello che per chi è molto pratico con la matematica sono 51 HP a livello 18 e 5 di AD a livello 18 nessuno è felice nessuno vuole dei buff a Trindamer reworkate Trindamer grazie Twitch il suo scaling sul potere magico scende da 35% a 30% Twitch AP come supporto funziona esiste viene utilizzato non è debole non è forte è abusivo è fastidioso è frustrante da affrontare è qualcosa che la Riot ha voluto incentivare un pochino per dire boh così buildano un po' diverso e poi tipo vedi Twitch AP support e sei tipo no questo non era quello che volevamo raga no non avevo bisogno nella mia vita di vedere un Twitch che va in roaming da botlane in top lane mi tira 5 colpi di raffica con la Suprema e poi vedo la mia vita sparire di E tipo ah capisco ho perso 800 HP perché ha un Ash or Tut sto drammatizzando però non era divertente da affrontare mettiamola così quindi comprensibile come nerf bel lavoro anche qua Riot Xayah il suo incantalame la sua E viene ridotto dal danno base di 5 danni flat lo scaling rimane identico ma il cooldown viene aumentato di un secondo ogni singolo rank perché perché nel momento in cui Xayah prende le navori porco Judas è forte quindi brava Riot grazie Riot per aver fatto questa modifica se ho resi conto che avevano cacato un po' fuori dal vaso e le navori sono forti la gente se ne sta lentamente accorgendo su molti più campioni di quanto possano essere utili il nerf a Yorick oh perché questa è una cosa che ha triggerato molte persone dicendo ma scusa Yorick non è messo così male che devi per forza di cose nerfarlo perché oh mio dio sta dominando a tutto tonno allora allora c'è questa cosa incredibile sotto il diamond soprattutto dei main Yorick hanno scoperto che se tu prendi un'idrafamelica e l'eclissi tu letteralmente sei immortale in side lane e se tu colpisci una singola volta una E con quattro affarini quattro servitori tiri delle legnate astronomiche ora ad alto elo Yorick non è un problema perché sanno come gestirlo sanno come combatterci in lane sanno come gestire la sua mancata mobilità il fatto che ha dei trade pattern molto ovvi col fatto che deve usare la E a basso elo la gente non ha più palla idea di che cazzo fa Yorick e quindi ci muore come un pollo regolarmente cosa fa Riot nerfa Yorick per il low elo questo non va a distruggere il bilanciamento di Yorick ad alto elo perché tanto ad alto elo non viene giocato tanto e non è di grande interesse è triste il fatto che viene nerfato assolutamente è qualcosa che va a punire tanto i giocatori ad alto elo snì perché la gente ad alto elo kaita correttamente i ghoul e quindi questa modifica non si sentirà così tanto perché viene applicato fino a otto volte il danno della E assolutamente bello ma questo va a punire principalmente i giocatori che stanno fermi immobili come ceppia a farsi colpire dai ghoul quindi per favore vi voglio bene fate i bravi fate i bravi Zed resistenza magica diminuita da 32 a 29 ma il cooldown della sua E viene ridotto di un quarto di secondo due quarti di secondo tre quarti di secondo un secondo intero dal secondo a quinto rank per andare a compensare questa perdita un po' più fragile in lane ma almeno può utilizzare più spesso la sua E soprattutto più avanti nella partita comprensibile questi erano i cambiamenti dei campioni c'è qualche aggiustamento alla giungla di nuovo vi ricordate all'inizio season hanno messo quel sistema in cui counter junglare era una merda che tipo tu fai più danni sul tuo lato di giungla ma non fai più danni sul lato della giungla avversaria cosa hanno fatto hanno aumentato gli HP di tutti i campi e hanno messo questo modificatore di danno bonus così che è più difficile rubare i campi dell'avversario tutti erano contro tutti erano contro questa cosa i main jungles si sta parlando io ero tipo boh non so quanto impatto possa avere alla fine la situazione è quella che è stata nessuno invade più perché non hai nessun cazzo emotivo di invadere in giungla avversaria ci metti troppo tempo per fare un campo e di conseguenza hanno deciso ok togliamo questa modifica hanno accettato ci abbiamo provato non ha funzionato pace hanno ammesso l'errore io stesso ero tipo non pensavo che fosse così impattante si impatta in early game ma poi più in mid to late game sei comunque volonteroso di invadere no perché tanto il rischio è troppo alto comunque quindi non lo fai ugualmente nel mid to late game quindi yeah hanno tolto questa modifica oh si può sbagliare tutti quanti a livello di giudizio cioè molto tranquillamente campi che danno più gold tutti i campi la giungla ti danno più gold perché avendo tolto così tanti soldi dai biscotti farmare la giungla non è molto incentivato cioè non hai tipo il grande motivo sei tipo ok comunque gancare vale più la pena a confronto con farmare i campi quindi che cazzo faccio farmi i campi se sono debole a gancare ora hai almeno un motivo per farlo perché ogni singolo campo vale circa una decina di gold in più detta proprio schietta veloce proprio semplice semplice andiamo avanti l'esperienza che i jungler possono assorbire dalla fase di corsia tra lo minuto 0 e il minuto 14 puoi prendere dal 40 al 75% di esperienza invece che il 75% di esperienza totale che prenderi prima quindi se tu sei un jungler ganchi e ti farmi la lane dell'esperienza cioè praticamente assorbi l'esperienza che dovrebbe prendere il tuo laner uno sei stronzo due ne prendi di meno adesso a fare una cosa del genere dopo aver gancato aiuta a pushare assolutamente però non prendere troppo vantaggio da questa cosa makes sense seems fair e un'altra cosa che viene modificata la sweeping lens il fatto che il cooldown viene aumentato di 30 secondi in early game io non sono mai un grande fan sia delle modifiche al sistema di visione perché sono sempre molto pericolose un gioco in cui c'è troppa vision diventa un gioco in cui non puoi mai gancare un gioco in cui c'è troppa poca vision è molto facile gancare uno allo stesso tempo porta tutti a giocare più safe e quindi è questo difficile atto di bilanciamento tra il dobbiamo tenere abbastanza visione che la gente vuole effettivamente agire in competitivo ed è lo alto soprattutto ma allo stesso tempo non dobbiamo metterne troppa così che troppa di visione perché se no poi la gente sa sempre dove è il jungle e quindi il jungle non può fare un cazzo oltre che farmare molto molto difficile come atto di bilanciamento però comprensibile perché attualmente rimozione di visione in early game è abbastanza prepotente quindi piedi di piombo su questo riot giusto ma state attenti la cosmic drive questo ha triggerato una montagna di persone soprattutto i main silas perché hanno tolto gli hp dal cosmic drive totalmente tolti totalmente tolti e hanno messo 25 di potere magico in più adesso passasse 90 di ap uno si chiede ma quindi adesso a chi serve questo oggetto ce lo stiamo letteralmente chiedendo tutti quanti perché per quanto bella la movement speed bonus un mago è tipo ok per cosa dovrebbe sostituirmi questo oggetto cioè chi è volenteroso del sacrificare potere magico e altri effetti per avere un po' di movement speed riot riot questo allora io ho le patch da un po' di giorni e io sono qua che guardo e dico che cazzo vuol dire questa modifica perché non hanno specificato niente adesso un autoattacco e un autoattacco non importa com'è codificato adesso lo steel cap controlla tutti gli autoattacchi per ridurre il danno piuttosto che soltanto le cose che sono codificate come autoattacchi e solo autoattacchi e nient'altro cioè allora all'interno del gioco ci sono autoattacchi modificatori degli autoattacchi spell che sono autoattacchi e questo è quanto e quindi sono tipo wait cos'è che non veniva ridotto dai plated steel caps parte 2 wait quanti danni più ho preso perché non c'era questa cosa i plated steel caps sembrano aver preso un buff letteralmente dal nulla e quindi sono qua tipo questa cosa potrebbe piacermi molto come come giocatore di top laner quindi yes yes let's go non so come funziona è questo perché non viene descritto è questo l'assurdo cioè è un boh abbiamo aiutato un po' i plated steel caps a funzionare meglio come abbiamo fatto un bel discorso motivante riot vabbè grazie i guess il seraph devo non nerfarlo purtroppo è insanely strong il seraph è veramente veramente tanto cazzo forte da 80 i poteri magici scende a 70 e gli HP scendono a 250 a 200 perché c'erano campioni tipo tutti quelli che scalano con la road of ages tipo Cassadin Ryze Gragas Silas c'era veramente una montagna di campioni che usava il seraph e beh che dire era veramente forte e giustamente viene nerfato e viene nerfato anche l'archangel stat da 80 70p per coerenza allora questa modifica al grasp la prima volta che l'ho letto ero un po' confuso un po' tanto confuso perché dico wait come sarebbe un nerf questo nella mia testa mi sono immaginato una cosa e l'ho proprio percepita male non so per quale motivo ho avuto proprio una visione distorta di questa modifica non capisco ancora come questo mi sia successo ma cosa succede adesso la cura del grasp of the undying scala invece che con l'1,7% della vita massima con l'1,2% della vita massima più 3 hp flat fine cosa succede quindi dal momento in cui tu hai 600 hp o più questo è un nerf nella mia testa era mi sono riuscito a confondere la sola pensando come cosa non può essere che tu hai nerfato letteralmente ogni top laner corpo a corpo per questa cosa ogni top laner corpo a corpo superati i 600 hp che è dal livello 1 cioè non devi prendere neanche oggetti su molti top laner per arrivare a 600 hp dal livello 1 è più debole il graspo a livello di sustain totale il punto assurdo è che i tank sono mezzi tristi perché dici ok comunque prenderò hp in più perché passi dal prendere 5 hp per ogni proc a prenderne 7 di hp per ogni proc quindi si non è tipo fuck yeah let's go e tipo i fighter sono la che guardano e dicono io dovrei non prendere più questa luna perché cioè le grosse differenze cominci a sentirle sui 2 sui 3000 hp quando vedi differenze di 10 hp per cura ma dico a quel punto potresti prendere ad esempio il conquistatore non hai quei più quei grossi burst di cura ma comunque prendi hp dalle attivazioni non lo so è è strano cioè è effettivamente un nerf al sustain non sto dicendo non è un nerf al sustain è proprio un perché questo porterebbe i fighter a non prenderlo cioè cosa mi fa dire ah guarda i fighter adesso non lo prenderanno mai cioè piuttosto mettimi una componente di scaling sulla vita bonus così che no perché comunque lo abuserebbero di fight certe cose devono trovare un modo per legarle più ai tank piuttosto che ai fight cioè piuttosto dimmi guarda con questa roba fai il 5% di danno in meno flat sempre però ti curi di più quando sei un tank ti curi perché sei un tank dammi una roba del genere trova un modo per bilanciare non lo so che è un'assurdità è un'idea lanciata così messa su due piedi a caso però molte delle rune e molti degli oggetti purtroppo soffrono del problema che possono essere abusati che non è una cosa malvagissima perché puoi bilanciarli per evitare che questo succeda ma ci sono molti oggetti e rune che possono essere abusati da più categorie in maniera molto prepotente soprattutto i tank soffrono di questa cosa in maniera indiretta ma da sempre come anche altre categorie tipo gli assassini che vedono gli area di care e prendono i loro oggetti che cazzo stai facendo succede a tutti come ai maghi come ai fighter come ai tank eccetera eccetera e che ogni volta per i tank hai il problema aggiuntivo del dover decidere come bilanciare attorno ai fighter perché se metti scaling sugli hp bonus i fighter hanno comunque oggetti con hp bonus se metti scaling sugli hp totali comunque li usano bene anche i fighter è un atto di bilanciamento veramente frustrante per riot e per tutti i giocatori perché tipo ah questo è un airfight fighter e i tank ne subiscono di conseguenza comunque devono trovare un'idea per modificare in maniera diversa oltre che dire ok proviamo a ritoccare un po' i numeri così che non è troppo abusivo per certe classi piuttosto cambia l'effetto modifica l'effetto metti qualcosa in più metti un asterisco per dire ah guarda se lo prendi se sei fighter fai 5% di danno in meno è una cazzata quella però sono sicuro che riot che ha letteralmente dei game designer che fanno questo tutto il giorno possono concepire qualcosa di diverso andiamo avanti al trionfo che hanno deciso di nerfare anche questo a livello di cura cosa succede invece di curare il 10% della vita mancante cura per il 2.5% della vita massima quindi molto buono perità anche merita e il 5% della vita mancante per quale motivo hanno fatto questa modifica perché a questo modo quando sei a bassa salute non ti cura di tonnellate di hp ma quando sei in salute ti cura abbastanza per dire ok ne vale abbastanza la pena lo sweet spot è a 35% viene proprio fatto notare il leave and break point cioè il momento in cui la cura è uguale a prima è 35% di hp se ti curi in quel momento hai la cura quasi come prima in pratica non male molto molto sensato come nerf almeno non ti vedi una persona che si cura di tipo 200 hp dopo che si è appena salvato con 4 hp in totale poi ha partecipato una kill bella così chiudiamo il tutto con le modifiche all'aram e un altro paio di cosine carine l'aram hanno rimosso le torri che cadono perché nessuno era contento delle torri che cadono in aram è una cosa di cui avevano già discusso e meno male che ne avevano discusso perché almeno si sono resi conto che c'erano problemi in merito ci sono anche tutta un'altra serie di modifiche per quanto riguarda le strutture in modo che il game non sia troppo accelerato se un team sta snobollando allo stesso tempo fanno in modo che regà un game non possa durare 45 minuti più varie ed altri bilanciamenti del caso le clash sono tornate c'è il primo l'11 e 12 marzo il secondo il 25 e 26 marzo quindi partecipate divertitevi io farò anche probabilmente una streaming in merito aggiornano i prezzi dei campioni come vi ho già parlato in un altro video in modo da entrare in linea con quelli che sono la difficoltà del campione e quanto puoi divertirti con un campione se è la prima volta che lo giochi infatti qua dicono la difficoltà è tipo sì e no non è solo la difficoltà è più un quanto è facile per te divertirti con questo campione questi sono i campioni nuovi e quindi dici ok difficile perché non ci sono guide non ci sono cose eccetera eccetera più vai in basso a livello di prezzi più è facile divertirti con un campione per questo nel secondo tier quello da 1350 ci sono Yasuo Luci e N7 perché sono campioni che tu magari farai cacare a giocare però ti diverti mentre che sei con Luci e N7 a fare più 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 o meno circa circa quando ho letto questo ero così incazzato allora la prima parte dici adesso ci sarà sempre un minuto di delay sulla coda nel momento in cui una persona è stata penalizzata per essere andata a Afco per aver quitato un game e dico ok una punizioncina in più poi leggo la seconda riga e dico fixato un bug dove alcuni lever frequenti non ricevevano una penalità fammi capire c'erano dei pezzi di merda che giravano sulla landa che quittavano i game e non prendevano penalità per un bug raga oh cioè quante persone prenderanno calci in bocca da questa modifica spero tante spero tantissime perché se vai a Afco cioè se tu decidi di dedicare del tempo se succede un'emergenza medica o cosa è giustissimo che tu possa andare a Afco ti cade la corrente mi dispiace sfiga però succede e pace ma se tu decidi di entrare in un game di League of Legends tu decidi di investire il tuo cazzo di tempo su quel gioco quindi se tu sei così pezzo di merda da quittare tu ti meriti di non dover giocare più cioè dopo un po' se quitti spesso su un account tu dovresti essere bannato fine fine ti ricompri un altro account ok provate un modo per bannare questi stronzi per favore fateci questo favore per favore grazie soprattutto ora che sappiamo che non venivano penalizzati per un bug questa modifica invece mi ha intrigato molto quando l'ho letta perché loro parlano del fatto che dal 4 aprile 2023 che è la patch 13.7 per chi è meno pratico con i numeri cosa succede? tutti i sistemi a 32 bit non verranno supportati più da League of Legends quindi se siete su un sistema operativo vecchio che si basa su un sistema a 32 bit dovete cambiare il vostro computer per giocare a League of Legends poi perché? perché League of Legends non può continuare a sostenere i computer vecchi attualmente 99,9% dei player gioca su un sistema a 64 bit quindi a meno che voglio vedere nei commenti chi è lo stronzo che veniva a dire guarda io ho un computer a 32 bit ancora eschi cazzo ci gioca su Windows no neanche puoi giocare su Windows Vista è Windows 8 forse che è l'ultimo che supportava sistemi a 32 bit o l'8.1 come cavolo si chiamava roba orribile sono i brividi a spensarci non pensiamoci sì il punto è questo che passando da un sistema a 32 bit a 64 bit loro dicono abbiamo un modo di poter sbloccare funzionalità in più che prima non potevamo mettere in campo perché? perché stavamo supportando il sistema a 32 bit ma io mi chiedo ma nel momento in cui la soglia del 95% di player sta giocando con un sistema a 64 bit perché non fai subito il change invece che aspettare? perché non è una cosa da poco cioè sono passati veramente tanti anni da quando è uscito l'ultimo sistema a 32 bit che supportava se sei a 32 bit io sono tipo raga andiamo? meno male meno male ah e per la cronaca visto che qualcuno diceva hey ma adesso che guadagniamo tutti più LP ne perdiamo di più non sarebbe giusto andare a migliorare quanto riguarda i dodge sì spoiler perdi più LP nel momento in cui dodgi invece che perdere 3 ne perdi 5 la prima volta invece che perdere 10 ne perdi 15 la seconda volta grazie per avercelo fatto notare non sono un rioter e non ho messo io questa modifica però grazie per averlo fatto notare anche a me perché non ce l'avevo mai pensato a sta cosa mi è stato fatto notare allora io devo guardare un bug qua non hanno messo il bug fix su horn sono molto deluso da questa cosa riot attualmente horn ha un bug che ancora succede anche in 13.4 che cosa succede? nel momento in cui tu stai per potenziare il tuo mitico consuma un oggetto cioè se tu passi dal livello 12 al livello 13 hai tipo il tuo mitico completo e un componente per il mitico tipo una clott armor o un magic mantle ti scompare dall'inventario succede ancora ancora in 13.4 non è una cosa che succede sempre adesso ma succede ancora e quindi sono tipo fixate mi horn per favore grazie 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 vedendo oltretutto quante cavolo di quanti bug riot quanti bug riot e stanno arrivando le skin signore e signori questo è quanto per questo video spero che vi sia piaciuto tanto e noi ci vediamo al prossimo grazie